I siti culturali siciliani nei primi sei mesi del 2024 hanno ottenuto un successo, risposte sorridenti relativamente ad affluenza e incasso rispetto allo stesso periodo del 2023, superati infatti i 2 milioni di visitatori. Boom di risultati nella Valle dei Templi di Agrigento con un incasso che sfiora i 4 milioni di euro. Si parla del 10% di visite in più rispetto al 2023 e soprattutto un incremento del 30% sugli incassi, che nel 2023 si erano fermati a meno di 3 milioni. Inoltre si superano i 550 mila visitatori se si sommano il Museo archeologico Pietro Grifo, il Museo Pirandello e il sito di Eraclea Minoa. A maggio la valle è stata percorsa da oltre 133 mila persone con un incasso che ha superato di molto il milione di euro, il 32% in più rispetto al 2023. Nei tre siti del Parco archeologico Naxos Taormina, Teatro Antico, Museo e Area archeologica di Naxos e Isola Bella complessivamente ci sono stati 534.818 visitatori, una crescita del 15% rispetto al semestre analogo del 2023. Il Teatro Antico ha accolto 479 mila visitatori e a maggio si è registrato il record di 145 mila presenze, un incasso che sfiora i 5 milioni di euro. Ottimi risultati anche per il Museo Salinas di Palermo, oltre 35 mila visitatori e un incasso che supera gli 80 mila euro, anche senza il biglietto congiunto con l'orto botanico che torna però il 10 luglio. Bene pure il Chiostro Benedettino del Duomo di Monreale, parte del percorso UNESCO con oltre 150 mila visitatori, un incasso che sfiora i 900 mila euro. Sorridono anche i parchi archeologici di Segesta e Selinunte. Nei primi sei mesi Segesta chiude con 150 mila visitatori e un incremento del 5%. Selinunte parla di un incremento di quasi l'11% con 125 mila visitatori e 639 mila euro d'incasso. A maggio il boom con oltre 45 mila visitatori, l'aumento del 33%.